Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio importante perché si titola Storia dell'Inquisizione. I metodi e i processi del Tribunale di Dio di Massimo Centini, che è nostro ospite, pubblicato da pochissimo da Diarcos, 336 pagine per 18 euro. E io, come mia abitudine, non rubo tempo all'autore che così ci può raccontare liberamente di questo interessante saggio. Prego, professore. Grazie. Allora, intanto vi ringrazio per avermi invitato ad essere qui con voi in questo vostro sito assolutamente affascinante e interessante. Il mio libro è, intanto, il bignami dell'Inquisizione, perché racconta, credo, spero, con un linguaggio accessibile, questo tema spinosissimo. L'Inquisizione è un gianubifronte, nel senso che è un'istituzione, adesso poi vediamo nei vari dettagli, è reale, storica, ed è una faccia. Poi vi è una faccia influenzata dal mito, dal mito, dalle leggende, anche dalle ideologie, che hanno avuto il loro incipit, soprattutto nella storiografia romantica, che ha fatto del medioevo, quel famoso medioevo oscuro, brutto, dove tutti vivevano malissimo, dove c'erano solo cose che andavano male, dove gli uomini erano simili a buzzurri, eccetera, che ha condizionato per un certo periodo la storiografia, anche poi più recente, ma soprattutto è, come dire, un fuoco che arde sotto la cenere di una certa pubblicistica, di una letteratura fantastica e avanti di questo passo. L'Inquisizione si incunea lì in mezzo in modo molto problematico, nel senso che, tutti sappiamo, è un tribunale ecclesiastico, un tribunale ecclesiastico che ha perseguito gli eretici, poi nella sua evoluzione varia, si è dedicata anche ad altri ambiti, anche altre categorie, e naturalmente, essendo un'istituzione della Chiesa, questo ha favorito, come dire, un'aggressione anche ideologica importante. Ne sono venute fuori, quindi, delle visioni dell'Inquisizione non perfettamente storiche, ma che danno dell'Inquisitore un'immagine del criminale, dell'assassino, del maniaco sessuale, eccetera. Di contro vi è una interpretazione dell'Inquisizione all'acqua di rose, nel senso che fa dell'Inquisitore, poveretto, quasi un martire, un santo, una persona che si è sacrificata per gli altri, eccetera. Come sempre, la verità sta nel mezzo. Se vi erano degli inquisitori, che erano sicuramente dei criminali, ma questo esiste da sempre in tutte le strutture fino ad oggi, che erano sicuramente assetati di sangue, probabilmente anche malati da un punto di vista psichico, persone che avevano delle loro problematiche, delle loro convinzioni, vi era anche un ampio corpus di inquisitori che operava seguendo una metodologia. Una metodologia sulla quale noi oggi possiamo discutere da laici, senza dubbio, perseguire altri perché non la pensano come te dal punto di vista religioso, è assolutamente antidemocratico, antisociale, disonesto, criminale per certi punti di vista. Però tant'è. Allora questa era l'immagine, questa era l'ideologia, questa era la fede. E alcuni inquisitori, io ritengo una parte importante di inquisitori, ha operato con giustizia, quella che era la giustizia dell'epoca. Noi non dobbiamo valutare la lotta all'eresia, le guerre di religioni, con gli occhi di uomini del ventesimo, ventunesimo secolo. Ma dobbiamo, per quanto possibile, provare a calarci nella mentalità, la storia della mentalità, la microstoria che hanno aperto un mondo, su questo tipo di approccio epistemologico della storia mediovale, ci hanno insegnato a guardare quei fenomeni per quanto possibile in un'ottica vicina a quella dell'ottica del tempo. Cioè noi non possiamo capire certe cose. Possiamo dargli un'interpretazione socio-antropologica e dire, per esempio, la strega era un ottimo capro espiatorio sul quale caricare tutte le problematiche di una società che non riusciva a risolvere in altro modo. Va benissimo, questo è attuale e il capro espiatorio esiste ancora oggi in fondo. Ma l'approccio proprio alla lotta all'eresia è indubbiamente, a noi sembra paradossale, a me sembra pazzesco, no? Dover massacrare persone, mandare a rogo persone perché sostenevano che la Madonna non era vergine o piuttosto che il Cristo non era assolutamente risorto fino a questioni più teologiche, più complesse. Alcune naturalmente di grande effetto come queste che prendevano molto sulla popolazione, sulla gente. L'inquisizione quindi nasce come tribunale, l'inquisizione medievale, il primo grosso corpus, no? Che nasce, diciamo, tra il 1179-1184, più o meno lì in mezzo, quando si rende necessaria un'importante azione contro i Catari. I Catari sono stati un po' l'innesco di questa cosa. I Catari erano un gruppo eretico molto agguerrito. Non dimentichiamo che anche gli eretici non è che stavano solo lì a pregare e a farsi bruciare. Vi erano lotte intestina all'interno della Francia, del midì della Francia, molto forti, molto legate sia alla religione, ma non solo. Mi fa venire un po' in mente anche le guerre di religione attuali in varie parti del mondo, dove sì, il problema teologico-religioso è primario, però adesso, come una calamita, no? Si attirano anche altri problemi che forse con la religione non c'entrano molto, no? O non c'entrano quantomeno direttamente. Il Tribunale dell'Inquisizione quindi nasce, il Tribunale Mediovale nasce in questo momento con due impostazioni, no? La prima cosiddetta Vescovile e la seconda Legantina. La prima attribuiva ai Vescovi il ruolo di ricercare e giudicare gli eretici, mentre nella seconda il Papa nominava gli inquisitori con poteri maggiori del Vescovo. Quindi, aborigine ci si affidava ancora ai Vescovi, poi fu il Papa a prendersi tutta l'organizzazione e dare appunto a delle persone che sceglieva il compito di operare andando sopra il Vescovo. L'Inquisizione Mediovale va avanti sostanzialmente fino alla metà del XIV secolo, perché c'è tutta una problematica di carattere legata all'eresia che dicevamo erano i catari, poi se ne sono uniti tantissimi altri gruppi. Parallelamente abbiamo l'Inquisizione spagnola e portoghese che si differenzia dall'Inquisizione medievale e poi romana che vedremo subito dopo, perché era controllata dai sovrani. Erano i sovrani in qualche modo ad avere l'ultima parola. Poi noi adesso facciamo un discorso generale, bisogna vedere caso per caso, ovviamente ci sono stati casi in cui l'Inquisizione ha avuto maggiore potere dei sovrani per esempio nell'area basca tormentata dalla caccia alle streghe eccetera. Però adesso facciamo un discorso proprio superficiale e generale. Dicevo, l'Inquisizione spagnola che vede la luce circa nel 1470-78 e finirà poi nel 1820. E quella portoghese che vedrà la luce un po' di tempo dopo, siamo poi nel 1536 e anche lei andrà avanti fino al 1821, che avevano un compito più, come dire, più selettivo. Il loro grosso problema erano i moriscos e i conversos, vale a dire i musulmani convertiti, ma soprattutto gli ebrei convertiti. Ma perché erano un problema se convertiti? Perché in effetti erano convertiti, diciamo, ufficialmente, ma ufficiosamente continuavano a mantenere le loro ritualità, la loro identità. Il problema, al di là dell'aspetto religioso, nello specifico Spagna e poi Portogallo, che il Portogallo porterà poi anche l'inquisizione insieme naturalmente alla Spagna, ma specificatamente anche nelle aree del Sud America e dell'India. Vi è quel bellissimo film Mission che dà un'immagine molto bella di questa trasmissione del verbo a due livelli. Quello dei predicatori, anche martiri, che hanno una visione di Dio decisamente cosmica, decisamente più ampia, che quindi vede tutti gli uomini uguali e si avvicina agli indios con una fede che naturalmente non è quella del potere, non è quella dei vescovi, degli inquisitori che hanno una visione diversa. Certo, è un film da un'interpretazione anche orientata secondo l'idea, le teorie e i punti di vista del regista. Dicevo, i conversos, soprattutto gli ebrei, avevano un ruolo economico, finanziario importantissimo. Quindi era una situazione problematica, nel senso che molte di queste persone erano anche a livelli importanti all'interno del governo, ma soprattutto dell'economia. E quindi ci fu, come dire, uno scontro, a volte una sorta di guerra fredda e altre volte ci furono degli scontri diretti soprattutto per accaparrarsi indubbiamente i beni del mondo ebraico che erano sicuramente notevoli. Detto questo, ci dobbiamo ancora aggiungere l'inquisizione veneziana, l'inquisizione veneziana che anche fu un'inquisizione controllata per quanto possibile dal mondo laico, dal potere locale, che certamente agiva nei confronti dei eretici, però con un'attenzione, come dire, con una volontà di contenere il potere della Chiesa. Ci furono veramente anche scontri intrinseci molto forti, però ribadisco, queste cose vengono molto fuori analizzando i singoli casi, poi magari comparandoli si scoprano analogie o cose completamente diverse. In ultimo, l'inquisizione romana, detta anche Sant'Uffizio, che vedrà la luce nel 1542, andrà avanti praticamente fino alla legge Ratazzi per poi convertirsi nella congregazione per la dottrina della fede. Cioè, non voglio dire che l'inquisizione esiste ancora oggi, ma indubbiamente si è evoluta questo tribunale importantissimo ecclesiastico. In seno al tribunale dell'inquisizione va anche ricordato l'indice dei libri proibiti, un altro universo questo, che anche questo si è protratto nel tempo. Tra gli autori italiani ricordo per esempio D'Annunzio, che fu più volte come dire segnato con la matita rossa dal tribunale, dall'indice dei libri proibiti. È interessante questa cosa, naturalmente c'è una bibliografia sconfinata, dopo lo diciamo, ma Venezia, perché fu anche particolarmente attenta a cercare di contenere il più possibile, perché Venezia era il centro, era la Milano dell'epoca, la Milano era il capitale dell'editoria italiana, in qualche modo. Allora era Venezia, dove erano più torchi che in tutta Italia. Ci sono dei dati interessantissimi su questa cosa. C'erano molti librai, ma noi pensiamo al libraio al tipografo, ma allora era l'editore nel vero senso della parola. E l'indice dei libri proibiti dava delle indicazioni molto precise del tipo questo libro da pagina 20 a pagina 45 deve essere, questa parte deve essere eliminata. Ora, per chi ha un minimo di conoscenza di come si fanno i libri, capisce benissimo che per l'editore era un dramma enorme, voleva dire prendere il libro e buttarlo via. A questo aggiungiamo che poi si decise anche soltanto di poter non buttare via il libro, ma di cambiare quelle determinate parti. Il tutto con una tempistica di quei secoli che non è quella di adesso. Quindi voi pensate, uno faceva un libro che veniva messo all'indice, ma siamo sicuri che questo libro non fosse ancora in giro da qualche parte perché nessuno sapeva che quel libro era vietato. È un tema interessante, no? Questo qui ed è andato, come dicevo, avanti per molto tempo. Ha coinvolto anche la pittura, i famosi bragoni, le braghe emesse nella Cappella Sistina e non solo, naturalmente. Ci sono processi a pittori perché avevano fatto delle opere che erano poco cattoliche, no? Avendo come tematica la tematica sacra. Ecco, questo proprio per dare un escursus assolutamente superficiale, ma credo poi che nel corso della lettura chi avrà voglia di leggere il libro naturalmente potrà trarne molte cose interessanti, secondo me, non perché io abbia fatto un libro interessante, ma perché il tema è interessante. Io l'ho strutturato in questo modo. Ho fatto in primi su un capitolo che ho intitolato In difesa dell'ortodossia, cioè come nasce il bisogno di contenere l'eresia, che cos'è l'eresia? Diciamo che non c'è religione che non abbia in qualche modo un'eresia, no? L'eretico è quello che si contrappone ontologicamente ai temi forti, ai dogmi, alle leggi anche della religione dominante. Poi ci sono i tre capitoli diciamo portanti, l'inquisizione mediomale, l'inquisizione veneziana e l'inquisizione romana. Il quarto, il quinto, non si intitola Inquisizione, ma si intitola Contro Marrani e Moriscos, vale a dire l'inquisizione che abbiamo detto spagnola e portoghese. Poi c'è il capitolo scusate Penne, Pennelli ed Eresia, che appunto si occupa dei libri, dei pittori che hanno così esagerato secondo l'inquisizione, secondo l'indice. Ho fatto un capitolo su un tema forse poco affrontato, ma che mi ha sempre molto colpito. Nasce anche da un mio interesse professionale. Ho fatto un seminario sulla parolaccia, sull'uso del parolaccia per sintesi, su quanto oggi siano sdoganate molte parole fino all'eccesso, fino alla querela, grazie ai social e chi più ne ha ne metta, alla televisione, noi sentiamo insulti buttati così. e ho fatto questo capitolo che si intitola Chi bestemmia in nome del Signore sia messo a morte, cioè non è una mia idea naturalmente, ma è una frase tratta da uno dei tanti manuali ad uso degli inquisitori e mi sono soffermato su questo interesse dell'inquisizione per la bestemmia, per la bestemmia che poteva essere bestemmia semplice o bestemmia eretica. Non stiamo qui a fare naturalmente esempi per motivi di decenza, ma quando uno diceva il nome di Dio, della Madonna, di un santo accompagnato da un aggettivo, questa era una bestemmia semplice. Quando uno magari diceva che la Madonna non era vergine, ecco, magari anche con un linguaggio un po' più da osteria, questa era una bestemmia eretica che poteva essere perseguita in modo importante. Tutto questo nasce con il tribunale, con l'inquisizione romana, quando l'abbassarsi, il ridursi della problematica eretica portò l'inquisizione ad allargare il proprio campo di analisi, coinvolgendo appunto temi come questo, ma il concubinaggio del clero, i rapporti, la sessualità cosiddetta sregolata secondo una certa morale dell'epoca e non ultima la persecuzione dei maghi e delle streghe. E in quel momento lì che esplode la caccia alle streghe in qualche modo già in nuce prima, ma certamente, il tribunale dell'inquisizione nella fine del Quattrocento con Innocenzo Ottavo e con Sprenger e Institor, due domenicani tedeschi che scriveranno Maleus Maleficarum il martello delle streghe, inizierà veramente una presa di posizione importante. E c'è questo capitolo solo sulla bestemmia perché mi sembrava interessante parlarne visto che forse se ne parla poco, la procedura e le pene, capitolo che già dal titolo dice tutto, come era strutturato il processo che in teoria chiacchierando così adesso simpaticamente con voi è facile dirlo, c'era questa prima fase, questa seconda e questa terza. Ma io che ho una certa età e che sono ormai 40 anni che mi occupo di processi legati prevalentemente alla stregoneria, alla magia, all'eresia, non ce n'è uno uguale all'altro. Il problema è quello lì, sembra semplice, c'è una procedura, ma ci sono centinaia di fattori locali, ambientali, personali che condizionavano la procedura. Ovviamente io ne ho parlato secondo la metodologia standard, partendo da quando l'inquisitore apriva il cosiddetto periodo di grazia in cui tutti potevano dire la loro, accusare, no? E accusare era molto semplice, io mi rifaccio molto al capro spiatorio, perché su cento processi analizzati, avendo la fonte più o meno completa, alla fine si scopre che almeno 95 erano alimentati, si soffiava sul fuoco perché vi erano delle problematiche intrinseche alla società. Bambini che morivano, animali che morivano, accidenti, gente malata, disgrazie varie, valanghe, vulcani. C'è sempre un elemento epidemie al quale l'uomo non sa dare una ragione, un'origine razionale. Dice, ma perché è venuto a me un accidente? Ma perché è morto a me mio figlio e non alla signora Rossi o la signora Bianchi? E perché qualcuno mi ha mandato un accidente? Trovando, e chi me l'ha mandato? La strega, no? Trovando la colpa, dando la colpa alla strega, io in qualche modo è come se avesse assunto un ansiolitico culturale. Trovavo un'origine al mio male e questo è un tema molto studiato, molto analizzato, soprattutto perché si è occupato di giurisprudenza di quei secoli. Quindi la procedura e le pene, la sofferenza induce a riflettere altro capitolo sulla tortura. Io sulla tortura ho fatto una premessa dicendo ci sono i musei della tortura ma attenzione c'è molto romanticismo anche se la parola ci fa pensare a qualcos'altro romanticismo ma la storiografia romantica ha un po' enfatizzato questa cosa. Io ho fatto un elenco di tutti questi strumenti di cui una serie noi possediamo le ricostruzioni più recenti, non abbiamo il documento originale, cioè l'oggetto io però ho pensato di metterli raccontando come funzionavano e evidenziando che solo una parte di questi era usato dagli inquisitori. Il più semplice era la corda anche perché poteva essere montata in qualunque posto. All'inquisito venivano legate le mani così dietro la schiena e la corda passava su una trave o su una carucola e veniva strattonato. Ecco, già questo era più che sufficiente. E ho fatto questa panoramica dicendo che in fondo l'inquisizione non ha inventato la tortura, esiste da sempre ed esisterà probabilmente sempre. ma se ne è servita e noi lo sappiamo soprattutto dai manuali. Ma anche qui però voi capite che è difficile dire la usavano tutti. A volte dai documenti processuali noi leggiamo è stato sottoposto a questo, questo, quest'altro. Altre volte no. Io credo che entrasse in gioco anche l'umanità della persona e in dubbio che allora la tortura era consentita. C'è un bel film di Pupiavati Magnificat che si occupa di una parte del Medioevo più indietro di quella del 4-500 di cui stiamo parlando che racconta molto bene questa fenomenologia. C'è un boia che va in giro a svolgere la sua attività di boia appunto di esecutore o di torturatore e allora purtroppo era era normale anche questo. Vi è poi il capitolo I cacciatori del male. I cacciatori del male è un elenco di alcuni inquisitori qualcuno enfatizzato che ho voluto metterlo forse addirittura non voglio dire non esistito perché sono tutti storicamente documentati ma li ho messi perché una parte di questi ha scritto dei manuali la manualistica è un documento antropologico psicologico a volte psichiatrico sociologico letterario straordinario questi manuali che ti dicevano uno in particolare quello di Eliseo Masini siamo già nel diciassettesimo secolo il quale ti dava addirittura il facsimile nel manuale ci sono gli spazi bianchi dove si metteva il nome del condannato del giudice del cancelliere quindi uno si ricopiava il documento per procedere all'interrogatorio e Masini dà una parte importantissima di metodologie da usare per la tortura addirittura per i bambini con oggetti semplici non con questi schiacciatesta o altre cose che si vedano nei musei che forse non erano neanche usati o forse sì ma è irrilevante bastava in fondo mettere dei bastoni tra le dita delle mani dell'inquisito e poi chiuderle con una forza notevole per produrre della sofferenza quindi il cacciatore del male ci fa questo elenco di inquisitori e di persone che si sono occupate appunto dell'inquisizione vi è poi il capitolo è eretico non credere nella stregoneria frase chiave incipit del maleus maleficarum che appunto tratta il tema della stregoneria come l'inquisizione si è posta nei confronti della stregoneria l'ho messo naturalmente ho fatto un'estrema sintesi perché sarebbe impossibile il tema della stregoneria è sconfinato ho fatto un capitolo alla questione templare iniziando a dire l'inquisizione non ha nessuna colpa per la fine dei templari perché è una fine politica di connivenza politica religiosa eccetera però l'inquisitore era presente l'inquisizione era presente e come dire ha fatto un po' la figura dello struzzo mettendo la testa sotto la sabbia per non entrare troppo nel merito della questione però l'ho messo proprio per fare un po' di ordine anche su questa cosa un altro capitolo è i segreti della penitenzieria studi sono stati fatti negli anni passati dall'archivio segreto vaticano è stato pubblicato una parte di questo materiale la penitenzieria era quell'ente che aveva anche con un ruolo importante nel giudizio dei colpevoli che praticamente funzionava così uno si autocondannava si dichiarava colpevole rivolgendosi alla penitenzieria vaticana chiedendo appunto perdono questa se il perdono arrivava ciò come dire dava una sorta di immunità al soggetto che poteva evitare di finire nelle grinfie dell'inquisizione o anche del tribunale laico ed è interessantissimo c'è un elenco sconfinato di reati una percentuale elevatissima è legata a reati a sfondo sessuale e la cosa che colpisce è che molti di queste persone che si rivolgono alla penitenzieria sono preti sono religiosi che hanno commesso tutta una serie di reati legati prevalentemente al sesso alla trasgressione al gioco qualcuno addirittura al crimine all'omicidio l'ultimo capitolo è tra storia e immaginazione dove ho fatto una carrellata molto veloce sull'iconografia l'inquisizione nell'arte ma questo proprio molto ristretta perché se no non sarebbe bastato un libro nella letteratura e nel cinema dove la figura dell'inquisitore certamente non ho parlato dei film sulla stregoneria perché a quel punto anche lì occorrerebbe un libro ma dove l'inquisitore in qualche modo viene fuori ad esempio in casi interessanti il caso di Ludum col film di Russell I diavoli dove padre Garnier viene appunto e tutte le suore indemoniate vengono in qualche modo condizionate dall'inquisitore quindi ci sono una serie di film interessanti e altri come dire che so il pozzo e il pendolo tratto da Edgar Allan Poe con l'ineguagliabile Vincent Sprite che fa l'inquisitore certo è letterario è fantastico conclude il libro una cronologia e una bibliografia che anche qui insomma è come se uno invece di stendere una bibliografia avesse cercato di compattarla in quei bigliettini che c'erano nei baci perugina quando io ero ragazzino perché ovviamente non si può soltanto il testo fondamentale secondo me italiano del professor del Col l'inquisizione storia dell'inquisizione pubblicato da Mondadori forse ripubblicato più volte credo sia mille passapagine per non parlare del del dizionario dell'inquisizione curato dal professor Prosperi qui siamo naturalmente il mio è un bigliettino appunto dei cioccolatini rispetto a questa cosa però credo poi naturalmente chi avrà più competenza potrà dare i giudizi che riterrà giusti ho cercato di creare un testo che avrei voluto trovare tanti anni fa quando volevo sapere qualcosa più dell'inquisizione ecco è una sintesi con tutta una serie di link che oggi grazie alla rete la gente potrà naturalmente sfruttare nel modo migliore basta se no mandate me a rogo non ci pensiamo nemmeno non la sottoponiamo nemmeno a tortura anzi le siamo riconoscenti per questo lavoro che ha spiegato in maniera così chiara e completa per cui è anche difficile interagire nel senso che poi va bene domande che se partono non finiscono più ce ne sarebbero un'infinità io sono partito a occuparmi di inquisizione quando ho incontrato sulla mia strada Lucio Terzo e la sua decretale ad Abolendam che era dove si elencavano i vari gruppi eretici del momento e per la prima volta credo comparivano i catari catari perché i catari rappresentavano un pericolo superiore a quello di tutti gli altri eretici dell'epoca erano gli unici che avevano costituito una vera e propria chiesa parallela una chiesa parallela esatto strutturata come la chiesa cattolica con i suoi vescovi le sue diocesi le sue strutture e qui in Lombardia avevamo Concorrezzo che era uno delle sedi più importanti quindi il fenomeno cataro è anche l'unico che subisce l'unica crociata che non va in terra santa ma che si svolge in piena Europa e che dura fra l'altro un bel po' di anni e i catari secondo me lei diceva che avevano una loro chiesa eccetera ma da quello che quello che io so addirittura mi verrebbe da dire francescana per certi aspetti no? come comportamenti come etica vero? questo era abbastanza diffuso in tutti i valdesi sono stati un altro esempio poi sono rientrati nell'ortodossia e si sono salvati la gherba perché sennò avevano fatto la stessa fine è proprio un fenomeno molto interessante del pieno dodicesimo secolo da un lato i santi laici che prima non esistevano l'introduzione del processo di canonizzazione che prima non esisteva quindi anche qui la chiesa tende a mettere come dire diciamo ordine nel caos diciamolo così per essere leggeri e poi tutti quei movimenti ereticali che partono quasi tutti dalla voglia di predicare il Vangelo e di farlo in lingua volgare che era una cosa che suscitava scandalo però è un fenomeno davvero molto molto interessante che poi porterà anche appunto alla nascita dell'inquisizione proprio per intervenire su queste fughe in avanti e che la vedrà svilupparsi nel corso dei secoli assumendo connotati molto più rigorosi molto più rigidi per esempio con l'ingresso dei dominicani gente di grande cultura di grande preparazione di grande conoscenza della normativa giuridica che diventeranno il braccio destro proprio di questo tipo di atteggiamento argomento infinito 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 e questa questa lotta secondo me questo è un altro grande tema che a me interessa moltissimo e la lotta che c'è stata questo più indietro diciamo nei primi secoli del cristianesimo contro tutte quelle manifestazioni chiamiamole pagane o di tradizione pagana alcune sono anche un po' entrate dalla finestra in alcune pratiche dei cosiddetti eretici combattute e poi bollate come culto del diavolo e resteranno lì sotto traccia fino poi all'esplosione della caccia alle streghe perché se noi compariamo certe fenomenologie demonizzate ma il canone episcopi quando dice queste sono donnette lussuriose che seguono la dea diana così senza dire ma lasciatele perdere chi se ne importa in realtà tutte queste manifestazioni culto delle pietre dell'eclissi eccetera e poi vengono fuori nel sabba e Carlo Gisbur in questo ha fatto ha messo un ordine incontestabile prima l'aveva fatto la Margaret Murray che era stata un po' più aggredita in quando essendo egittologa e non storica ma quelli erano gli anni in cui il medioevo o meglio ancora la stregoneria poteva essere studiata solo dagli storici con i benandanti negli fine anni 60 di Carlo Ginzburg è stata un po' sdoganata questa chiave di lettura ed è nello specifico della stregoneria ovviamente non parlo di altri fenomeni del medioevo e si è aperto anche ad altri specialisti quindi l'antropologia la sociologia la medicina la psichiatria no veramente abbiamo abbiamo cominciato ma dobbiamo decidere quando finire abbiamo scoperchiato il pozzo allora finiamo ricordando il titolo del libro grazie è storia dell'inquisizione i metodi e i processi del tribunale di Dio di Massimo Centini pubblicato da Diar cost da pochissimo 336 pagine per 18 euro quindi se volete saperne di più correte in libreria e acquistate il volume io ringrazio tantissimo grazie grazie a voi Massimo Centini ricordo a tutti di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove troverete anche tutte le altre videopresentazioni frutto di questo lunghissimo anno e mezzo di pandemia che sembra stia per finire e chissà se non c'è lo zampino del diavolo anche qui è possibile è possibile chiamiamolo diavolo ecco e quindi grazie ancora grazie grazie arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.